Il mondo Collexia Professional Il mondo Collexia Professional Fissa i capelli delle sezioni laterali destra e sinistra utilizzando le clip Collexia In seguito fissa quelle delle sezioni posteriori Con una riga orizzontale dividi i capelli della sezione posteriore destra avendo cura di lasciare liberi gli ultimi due centimetri della nuca Ferma poi i restanti capelli Prendi la ciocca di capelli da trattare con la piastra Collexia Professional e pettina il bene Posiziona la piastra orizzontalmente alla base dei capelli Falla scivolare lentamente partendo dalla base per arrivare alle punte Se selezioni sezioni sottili di capelli lo styling sarà perfetto Continua con lo stesso metodo su tutti i capelli della sezione posteriore destra e poi muoviti su quella sinistra Segui lo stesso procedimento Mantenendo la piastra Collexia Professional orizzontale rispetto alla ciocca di capelli L'effetto è garantito Ultimato lo styling della zona posteriore prosegui con il metodo Collexia Professional anche sulla zona anteriore sinistra Gli stessi movimenti della piastra e l'impostazione corretta del movimento Permettono di esaltare lo styling e la brillantezza della capigliatura Passa poi alla zona anteriore destra partendo dalla parte bassa delle tempie È importante prendere ciocchi sottili di due centimetri al massimo Pettinandole bene prima di passare la piastra Collexia Professional Usa lo stesso metodo anche sulla zona della francia Un ultimo tocco con le mani per liberare il movimento e il risultato è visibile Lo styling wind è semplice ma raffinato Di sicura soddisfazione per le tue clienti